vi devo dire la verità erano siamo andati a fare una foto a pregliasco accanto al busto di cavour ditemi se non ha qualche lontana somiglianza se non potrebbe essere un nipote bene buonasera a tutti questa sera parliamo di questo libro che si intitola il paese che siamo l'italia dalla prima repubblica alla politica on demand lui è lorenzo pregliasco come posso definire analista politico e sociale studioso di sondaggi e rilevazioni giornalista un tempo si diceva per prima adesso giornalista si mette terzo quarto anche così giornalista e persona che analizza la storia nel cercare le assonanze i corsi ricorsi tutto quello che dalla storia è attuale possiamo imparare questo libro è un libro che andrebbe fatto leggere all'ultimo anno della scuola superiore al quinto anno delle scuole superiori perché uno dei grossi problemi della di di forse di tutti i periodi non è che oggi la scuola sta messa peggio è il fatto che dove si arriva a studiare se si arriva al 25 aprile è già quasi un miracolo però oggi un giovane cittadino spesso non conosce cosa è stato la ricostruzione e il boom economico le stragi il terrorismo degli anni settanta i rapimenti che cosa sono stati gli anni ottanta c'è un buco e il problema è che hanno fatto a scuola tre volte le guerre puniche però non hanno mai fatto la strage di piazza fontana e oppure non hanno mai fatto non hanno mai raccontato come sono cambiati il tema dei diritti negli anni settanta allora oggi non capire che cose anche nel dibattito politico attuale che cosa ha significato per esempio tutto il dibattito italiano la battaglia il referendum sull'aborto sarebbe a mio parere ho fatto studi classici i miei professori non ridirebbero però io penso che sarebbe molto molto utile parlare del del degli anni degli anni degli anni più vicini a noi e mi rendo conto quanto sono dirompenti ma io per esempio vengo invitato regolarmente da dalle presidi o dai presidi che mi chiedono faccia un incontro con tutti quelli dell'ultimo anno con le quinte e li può fare dalla strage di piazza fontana a aldo moro fa un po una cosa perché siccome non nessuno ci arriva però non ci scoccia di farle andare via senza saperlo perché io faccio queste specie di carrellate e la cosa che mi colpisce è che non vola una mosca perché sono tutti lì che non possono credere di sentire che a un certo punto l'uomo politico più importante d'italia viene rapito tenuto rapito per settimane che vengono mandate le foto ai giornali cioè non riescono a credere però per noi più o meno per tutti quelli quasi tutti quelli che siamo qui sono contento anche siano dei giovani e quasi tutti quelli che siamo qui se diciamo aldo moro vi è chiaro il dramma della repubblica o se dico la strage di bologna o piazza fontana abbiamo la percezione di quanto quella cosa ha avuto un impatto sul paese allora lui cosa ha fatto ha fatto un libro che va dalla costituzione sostanzialmente a oggi a quella che lui chiama la politica on demand ha fatto un libro in cui fa un viaggio nella storia d'italia ma non non è un libro di scuola un sussidiario ma è quello che dovrebbe essere un libro di scuola secondo me oggi cioè trova tutto ciò della storia chiamiamola dell'italia contemporanea che parla all'italia di oggi ai cittadini di oggi in temi di diritti in temi di legislazione in temi di per esempio disaffezione al voto su una quantità di di temi impressionanti allora io partirei da qua lorenzo come ti è venuto in mente di fare questo libro e che dove sei andato a ad abbeverarti per scrivere questo libro grazie grazie mario tutti tutti voi che siete qui ma diciamo che è nato forse da da un'esigenza che in qualche modo sentivo e che per la verità aveva già guidato un altro progetto che che ho lavorato insieme a lorenzo baravalle prima del del libro che è un podcast che si chiama qui si fa l'italia no cioè l'esigenza era provare a raccontare il nostro passato recente a chi non ha vissuto quel passato recente alcuni di voi hanno vissuto le cose che mi sono raccontate in questo libro magari non tutte il 2 giugno del 46 forse no però molti altri sono sono nati quando quasi tutto quello che ha dato forma all'italia contemporanea insomma non era ancora non era ancora accaduto quindi l'idea è che ci fosse un po questa generazione no di mezzo tra il nostro passato e il presente e però sai il discorso non è solo chiedersi quanto poco i ragazzi sanno dell'italia contemporanea il discorso è provare a capire se ci sono dei modi contemporanei per raccontargli che cosa che cosa è stata l'italia di di ieri anche perché come come dicevi anche tu alla fine noi ci illudiamo no che il nostro paese dipenda unicamente dalle scelte che facciamo noi oggi da quello che la politica dice oggi la verità è che tante cose dipendono da mentalità abitudini immaginari che si sono consolidati nei decenni e quindi in questo senso oggi noi siamo il frutto di tutto ciò che è successo prima di oggi però se non trovi un modo appunto contemporaneo per raccontare questi passaggi a chi oggi ha 20 30 anni o anche a chi ne ha un po di più e però magari ha vissuto qualcosa di ciò che ciò che racconto ma può essere interessato a leggere una chiave che parla all'oggi ecco se tu trovi la chiave per fare questo nel tuo piccolo puoi provare a dare uno strumento di consapevolezza se vuoi anche di cittadinanza no a chi a chi magari esce da scuola o chi è uscito da qualche tempo da scuola ma vuole continuare a imparare questo è un luogo nel quale tanti vengono per questo motivo quindi direi che partito da qui e una cosa curiosa che poi tornerà sicuramente e che c'era un po quest'idea ma mi ha aiutato molto una cosa che è successa un po per caso cioè ho potuto consultare gli archivi i bollettini dell'istituto doxa che adesso tu in realtà sei giovane credo per l'istituto doxa perché era no te lo ricordi ok diciamo che dal 48 l'istituto doxa era l'istituto che faceva i sondaggi in italia era era l'unico istituto per molti decenni almeno fino agli anni 70 e poi diciamo fino a tutti gli anni 90 era l'istituto che tracciava l'opinione del paese sulla politica sulla società sull'economia sono riuscito a mettere le mani su questi bollettini che vanno dagli anni 40 fino agli anni 90 e quindi ho potuto scoprire come la pensavano gli italiani di un tempo che opinioni avevano che immaginari avevano e anche vedere come poi è cambiata la loro opinione questa cosa mi ha aiutato molto infatti nel libro qua e là si trovano alcuni dati che ci raccontano il paese che eravamo e quindi anche il paese che siamo il paese che eravamo una delle cose che mi ha sorpreso di più nel tuo libro sono questi sondaggi che ci raccontano il percepito la morale la mentalità comune degli italiani un tema impressionante è quello che rispondevano gli intervistati per esempio sul ruolo delle donne ma anche quello che rispondevano le donne sul ruolo delle donne sì e tra l'altro non negli anni 40 o 50 soltanto ma ancora fino a tutti gli anni 60 e in certi casi ancora negli anni 70 l'opinione pubblica diffusa l'opinione comune nel nostro paese era lontanissima da quella di oggi rispetto alla questione del ruolo della donna vi cito qualche dato circa otto donne su dieci nel nostro paese dicevano che il marito doveva essere più istruito della moglie che è anche un tipo di domanda quasi che oggi ci suona ci suona strano che un istituto di sondaggi chiedesse ma secondo lei è auspicabile che il marito sia più istruito della moglie e ci dà l'idea diciamo che della mentalità che produceva quelle domande prima ancora che quelle risposte ma ti potrei dire che per esempio negli anni ancora negli anni 60 la grande maggioranza degli italiani e delle italiane diceva nei sondaggi circa il 70 per cento che le donne non dovevano occuparsi di politica in un paese in cui le donne in politica erano poche ma c'erano già già nell'assemblea costituente come sappiamo c'erano donne importanti da Danil De Jotti a altre poche ma esatto Tina Selmy altra protagonista di quei decenni ma insomma il tema è che effettivamente questo sguardo nell'opinione che avevamo ci fa capire che fino almeno agli anni 70 eravamo un paese radicalmente diverso non nelle strutture politiche non nelle istituzioni che bene o male sono rimaste le stesse ma proprio nella mentalità nel modo con il quale guardavamo alla società nell'idea che avevamo del ruolo della famiglia in un certo senso se vuoi anche in che cosa ci aspettavamo dallo Stato che poi torna un po' qua e là nel libro è un libro che ha messo molto a fuoco cioè che mette molto a fuoco il rapporto tra gli italiani e la politica e come questo sia cambiato un'altra cosa che mi colpisce per esempio che ancora nel 1968 sette italiani su dieci erano contrari al divorzio dicevano che non bisognava permettere il divorzio e quando si andava a intervistare le donne questo numero se non erano era ancora maggiore questo mi serve per chiederti questo poi invece negli anni 70 aspetta che ho fatto una foto alla pagina che avevo paura di non ritrovarla negli anni 70 succede questo che in un decennio c'è un ci sono cambiamenti epocali non solo divorzio e aborto ma tra appunto la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70 ci sono lo statuto dei lavoratori l'abbassamento a 18 anni del diritto di voto la riforma del diritto di famiglia che detto così può non dirvi niente ma fino al 1975 una donna che lasciava una donna una moglie che lasciava il marito perdeva qualunque diritto sui figli fino al 1975 e c'è l'abolizione del diritto d'onore che era una norma che riduceva la pena per omicidio se commesso ai danni di un codice di un coniuge infedele l'abrogazione del matrimonio riparatore che serviva a distinguere il reato di violenza sessuale cioè in caso di violenza sessuale se lo stupratore si offriva di sposare questo estingueva il reato delle cose che se le leggiamo adesso poi c'è stata la riforma delle carceri la legge basaglia che che chiudeva i manicomi allora in quel decennio c'è stato un cambiamento fortissimo e velocissimo e quello che però mi colpisce è che la politica era esattamente sintonizzata una parte della politica per una maggioranza fanfani come sappiamo era contro il divorzio ma il parlamento italiano invece si esprime per il divorzio e poi al referendum la maggioranza di italiani si esprime per il divorzio a favore della legge del divorzio oggi invece assistiamo abbiamo un governo che sui temi sociali non entro nel merito giusti sbagliati eccetera eccetera però su quelle che sono i temi sociali più avanzati sta tirando il freno a mano e anzi dice no su una serie di cose dovremmo tornare indietro allora è perché si è invertito il verso della storia oppure perché per esempio secondo te che studi l'opinione pubblica questo governo pensa che non lo so per esempio una risposta potrebbe essere gli elettori più anziani votano con più costanza dei giovani quindi meglio tenersi buoni quelli più teoricamente socialmente conservatori che motivi ti dai ma allora non so se c'è una risposta sola questa questa domanda che fai sicuramente se uno pensa a quel decennio no gli anni 70 da metà gli anni 60 metà degli anni 70 colpisce davvero non tanto e non soltanto pensare che tutti quei cambiamenti sono avvenuti ma pensare che sono avvenuti in così poco tempo e con quella che io nel libro definisco un'alleanza tra pezzi della società e la politica e qui tra l'altro come dire c'è anche un falso mito un po da sfatare perché molti pensano che ad esempio il divorzio sia stato conquistato dagli italiani con il referendum e che la politica non volesse concederci il divorzio lo stesso sull'aborto e la verità è insomma è andata un po al contrario no cioè la politica un pezzo della politica per carità ma comunque una maggioranza del parlamento recepisce un fermento un movimento che c'era nella società dai movimenti femministi ad alcuni giornali ai radicali diciamo più 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 attivi sull'aborto ma comunque anche sul divorzio nel nel tra fine anni 60 inizioni 70 la politica recepisce questi movimenti ed ha una risposta fine del 1970 all'introduzione del divorzio e poi nel 78 la legge 194 sull'aborto il referendum erano il tentativo esatto di venir meno a quel passo avanti cioè il referendum erano la risposta diciamo così conservatrice del mondo cattolico non tutto ma di una parte rilevante al mondo cattolico contro un cambiamento che la politica aveva riconosciuto quindi quella politica non tutta ma nella sua maggioranza diciamo i partiti laici e la sinistra quindi dai liberali ai socialisti con qualche dubbio ma anche comunisti ecco quella politica lì è stata in grado di consegnare al paese segni tangibili di un cambiamento che diciamo un pezzo di società chiedeva perché anche questo dobbiamo dirlo fino lo ricordavi tu alla seconda metà degli anni 60 gli italiani nei sondaggi dicevano che non ci voleva il divorzio nel nostro paese solo un quarto delle donne intervistate era favorevole all'istituzione del divorzio poi cosa accade che il parlamento approva tra l'altro quello sarebbe stato poi il primo referendum in assoluto e quell'approvazione in un certo senso cambia il ritmo cambia il passo anche nell'opinione pubblica oggi secondo me siamo in un momento molto diverso e prima quando appunto mi sollevavi questa 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 cosa ho provato a dirti beh spesso la storia procede un po per strappi per torna indietro poi va avanti a me colpisce sempre ricordare che gli stati uniti sono passati senza soluzione di continuità da obama trump no e in quel paese si è molto discusso di quanto apparentemente il voto a trump no sia stato un un rinnegare un tornare indietro uno spezzare il percorso il percorso avviato con l'elezione di di obama quindi i paesi vanno avanti anche così io credo che ci siano un paio di motivi il primo è che oggi l'italia è un paese vecchio l'italia degli anni 60 non era un paese vecchio l'italia nei 60 era un paese molto più giovane di oggi gli anni 60 talto sono gli anni della grande natalità no fino anni 50 inizioni 60 si arriva più di un milione di bambini nati in un anno in italia oggi sono credo a malapena 400 mila nascevano insomma più del doppio in italia l'età media oggi è 46,8 l'età media ve la dico solo non apriamo quel capitolo ma l'età media della popolazione di tutta l'africa è 18,6 e sai l'italia degli anni 60 70 era un po a metà tra questi due estremi se vogliamo quindi eravamo un paese più giovane che aveva voglia di mettere in discussione più cose nel capitolo sui diritti degli anni 70 a un certo punto dico se tutto è possibile perché tutto sembrava possibile in quegli anni lì è perché tutto poteva essere messo in discussione persino il ruolo della chiesa nella società nella politica italiana che tra l'altro negli anni 60 70 aveva un peso ancora molto molto maggiore molto superiore a quello che che può avere oggi insomma secondo me conta molto questo quindi questo fattore demografico e conta anche il fatto che per una serie di motivi oggi c'è un pezzo di italia legittimamente diciamo che sono sembra che no legittimamente convinto che su molte cose il mondo stia andando troppo velocemente che i cambiamenti arrivino troppo in fretta che non si riesca a dare ordine al caos del del mutamento e che quindi ogni tanto un colpo di freno non fa male questo è ciò che credo guida la la un pezzo almeno la politica italiana nel un atteggiamento se vuoi conservatore su su temi civili e sociali siamo passati dalla partecipazione totale al voto e alle elezioni alla disillusione mi piacerebbe capire con te dov'è che inizia a rompersi la partecipazione al volo al voto e inizia il fenomeno della stensione e perché e insieme in contemporanea le due cose sono naturalmente strettamente legate c'è il fenomeno dell'antipolitica la presa della distanza della politica mi ha colpito del tuo libro che negli anni 60 il 90 per cento dei cittadini 90 per cento se non sbaglio diceva di avere fiducia nei politici nella politica no meno 60 forse non mi ricordo e però era molto maggioritario è solo certo di una cosa che oggi invece è diventato il 90 che non ha fiducia cioè quindi ne è rimasto soltanto il 10 a dire di avere fiducia nella politica che cosa è successo e quando guarda se uno deve individuare un momento preciso e lo vedi anche nelle serie storiche no quando si fanno i grafici su quante persone vanno a votare insomma si vede che in un certo momento quella curva inizia a scendere e quel momento è la fine degli anni 70 poi perché ci sono questioni tecniche perché a un certo punto vengono inclusi gli italiani all'estero ma insomma nel 79 di fatto abbiamo le prime elezioni politiche in Italia in cui la percentuale di partecipanti di 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 affluenza di persone che che votano inizia a scendere ed è un trend che poi però continua e continua fino fino a oggi con accelerazioni notevoli pensa che tra il 2018 e il 2022 quindi proprio nell'ultimissime ultimissime due elezioni politiche il numero di di votanti è sceso quasi del 10 per cento in quattro anni no nel 76 le ultime elezioni in cui l'affluenza saliva pensate che andò a votare il 93 per cento degli italiani degli aventi diritto se uno considera malati persone che erano lontane dal luogo di residenza quel 93 per cento lo possiamo leggere come tutti no praticamente tutti nel 2022 è stata circa il 63 per cento 64 per cento ok sono 30 punti in meno di partecipazione al voto qualcosa insomma inizia a rompersi alla fine degli anni 70 il decennio della disillusione e gli anni 80 infatti quel sondaggio che citavi poco fa ti dice che gli italiani negli anni 60 avevano comunque davano credito ancora alla politica in una misura che non sarebbe più tornata e già negli anni 80 questa curva era era cambiata radicalmente e poi potrei citarti come alta grande fase di rottura la pagina di storia che va dal 92 al 93 no quella in cui cade tutto in cui crollano i partiti tangentopoli le stragi di mafia insomma viene spazzata via tutta o quasi l'architettura partitica istituzionale che aveva retto il paese per quasi 50 anni e quel momento prova a dirla in questi termini nel libro cioè tangentopoli non è solo un insieme di inchieste cioè quell'onda lì riflette un'onda dell'opinione pubblica riflette un cambiamento di immaginario riflette anche un cambiamento di agenda dei mezzi di informazione che in quegli anni insomma avevano cavalcato in molti casi quella voglia di novità quella voglia di cambiamento che passava però dal sacrificare di fatto almeno in apparenza un bel pezzo della classe politica italiana quindi è in quella fase che inizia rompersi qualcosa e poi oggi arrivi a un punto nel quale votano alle politiche 63 64 per cento ma spesso alle amministrative meno del 50 in questa città le ultime elezioni comunali ha votato in molti quartieri ha votato poco più del 30 per cento degli aventi diritto prendiamoci conto no di delle proporzioni qual è il motivo te ne do due molto molto rapidamente che insomma spiegano un po il fenomeno la politica non è più un pezzo dell'identità delle persone negli anni 60 70 forse anche 80 la politica ti definiva almeno un pezzo un pezzo di te dipendeva dalla tua visione del mondo la tua visione politica tant'è che alcuni di voi potrebbero confermarmelo nascevi comunista democristiano missino socialista liberale oggi non so quanti nascano di fratelli d'italia del 5 stelle del pd anche perché i partiti un tempo avevano una vita superiore a quella di una generazione oggi diciamo negli ultimi anni si sono un po calmati però cambiano nome identità alleanze ogni ogni pochi mesi questo rende il lavoro dei sondaggisti particolarmente difficile e quindi questo il primo grande motivo è un secondo tema importante che le persone non solo non pensano più che la politica le definisca ma pensano che la politica incida poco sulla loro vita pensano che molte cose vengano decise a livello europeo magari e non o comunque sovranazionale non più nazionale e pensano che la politica non li riguardi il che tra l'altro su me è una enorme sottovalutazione ma questo è una mia c'è un applauso come dire che vuol dire che qualcuno la pensa come me beh questo a istinto ti ho già la risposta però te la faccio a te questo fenomeno ha delle peculiarità italiane o è tutto l'occidente e perlomeno tutta l'europa vive la stessa la stessa sindrome non c'è un trend proprio unico uniforme sicuramente in tanti altri paesi europei vedi un calo della partecipazione come tendenza per esempio in francia lo si è notato recentemente no sulle presidenziali e poi sulle legislative a me colpisce sempre quando mi viene fatta questa domanda quando prendevamo in giro gli americani perché non andavano a votare ve lo ricorderete se voi andate a vedere i dati degli ultimi anni vedete che nelle presidenziali ormai votano vanno votare più che alle nostre elezioni politiche e quindi quel come dire quell'assunto no che avevamo tutti è ma anche in america anzi mai in america non vanno a votare culla della democrazia e oggi non è più così valido perché negli stati uniti la tendenza è una crescita dell'affluenza anche perché negli stati uniti stanno adattando e modernizzando il modo in cui le persone possono votare noi siamo ancora fermi a discutere dei fuorisede ciclicamente a ogni campagna elettorale si dice è certo che i fuorisede dovremmo farli votare e poi ovviamente passano le elezioni e passano altri cinque anni no negli stati uniti ad esempio ormai quasi metà in certi casi anche più che metà degli elettori votano per posta votano prima con un voto anticipato insomma sono tanti modi che possono quantomeno aiutare le persone che vogliono votare a farlo chiudi il libro parlando di politica on demand che cos'è la politica on demand? beh diciamo che è un concetto che il concetto di on demand è un concetto che tutti noi ormai abbiamo assorbito nel nostro cervello e nelle nostre abitudini culturali no? se pensate alla musica pensate a spotify ormai credo adesso mai non tutti ma molti di voi se pensate alla televisione pensate a netflix o ad altre piattaforme insomma il punto è che ormai siamo abituati a questo meccanismo ci interessa qualcosa ce lo andiamo a cercare su una piattaforma on demand e ci vediamo quell'episodio lì ci vediamo quella serie lì quella canzone lì magari quel podcast lì no? non aspettiamo che ci sia un palinsesto deciso da qualcun altro che decide che dobbiamo vedere questo film il giovedì e questo talk show il martedì e questo quest'altro programma il il lunedì andiamo noi a cercarci il contenuto che ci interessa e magari vediamo una clip di tre minuti perché ci interessano quei tre minuti non le tre ore e mezza che è la durata media credo di un talk show di prima serata no? mi confermi più o meno insomma credo che sia sia da quelle parti questa è la logica on demand che ormai pervade la nostra vita in relazione a tutti i consumi culturali la mia impressione è che abbiamo esteso questo modo di consumare cultura anche alla partecipazione politica e quindi non cerchiamo più anzi siamo un po' insofferenti rispetto all'idea che ci sia un partito che ci dice come pensarla no? il partito palinsesto che ti dice esattamente che come la pensa il partito e quindi come la devi pensare tu su tutti i temi questa cosa qui ci ha stufato soprattutto le generazioni più giovani ci interessa al contrario andarci a pescare noi il tema la battaglia la questione singola che ci interessa e che ci appassiona magari dura un giorno magari in quel giorno se non ti occupi di quel tema sembri fuori dal mondo e poi dopo 24 ore è passato tutto la fiammata è svanita ma il meccanismo ormai è questo sia nell'informazione e ne abbiamo avuto occasione di parlarne anche recentemente no? che ha dei ritmi molto veloci sia nella politica che è diventata una somma di singole questioni molto più che una visione come possono dire più organica del mondo questa è un po la logica di politica on demand una logica nella quale ripeto soprattutto le generazioni più giovani si sono abituate a pensare che i partiti ufficiali la politica istituzionale non possono essere il luogo in cui cambiano con cui cambiano le cose ma che al contrario le cose cambiano se mi attivo su una singola questione condivido il pensiero di un influencer raccolgo delle firme insomma l'attivismo social che si sovrappone alla partecipazione politica questo è un po il concetto di politica on demand nei decenni che tu hai attraversato per fare il libro tra l'altro è molto interessante la riflessione che fai sugli anni del boom economico sottolineando come la maggior parte dei luoghi che noi viviamo oggi Torino fa un po eccezione dei luoghi che noi viviamo siano luoghi costruiti negli anni del boom economico soprattutto i luoghi sociali gli spazi universitari i palazzetti le scuole le scuole e quanto davvero c'è stato un cambiamento io mi ricordo che quando ci sono stati i 150 anni dell'unità d'italia nel 2011 avevo fatto la stampa alla fortuna di essere un giornale del 1867 per cui diciamo si potevano vedere i 50 anni dell'unità d'italia i cent'anni eccetera eccetera avevo trovato tutta una serie di numeri del 61 del 1961 che mi avevano sconvolto pensate che nel 1961 un terzo degli italiani non mangiava mai la carne la mangiava soltanto o a pasqua o a natale cioè nelle due feste più importanti un terzo degli italiani un altro terzo degli italiani la mangiava una volta alla settimana e quelli che si potevano permettere di comprare la carne erano un terzo degli italiani l'altro terzo sostanzialmente quei due terzi degli italiani non avevano accesso alla carne e ancora nel 61 più della metà delle case italiane non avevano il bagno il bagno era esterno ricordo che ho fatto questa presenta facevo una discussione un dibattito la presentazione di un libro con ferruccio de bortoli e in quel momento direttore del corriere della sera milanese nato nel centro di milano e quando io ho detto questa cosa ferruccio de bortoli si è girato mi ha detto beh io fino a che non sono stato maggiorenne non ho mai avuto il bagno in casa dovevo scendere in cortile a milano negli anni 60 allora questa cosa qua che per cui ritorno all'inizio che mi colpisce del libro e penso che andrebbe veramente letto nelle scuole superiori è di rendersi conto noi oggi che viviamo immersi nell'attimo presente nel presente quello che accade oddio sembra che accada per la prima volta e allora invece questo libro ti dà una la storia ma la storia quando parla all'oggi ti dà una sensazione di come le cose cambiano di come i fenomeni cambiano e se tu hai la sensazione del passato puoi avere la sensazione del futuro puoi avere la sensazione che il futuro cambi vuoi citare una cosa no 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 c'è quindi stavo pensando ai grandi cambiamenti di quegli anni e c'è già solo il cambiamento demografico prima dicevamo che appunto negli anni 60 si arriva a un milione di bambini nati in un anno no ma il punto è come si spostano gli italiani nel all'interno del nostro paese torino visto che siamo qui questa sera in dieci anni cresce di più di 300 mila abitanti che più o meno la popolazione di bologna un po è un po meno della popolazione di bologna in dieci anni è come se aggiungessimo tutta bologna a torino rendiamoci conto delle proporzioni no di questo di questo cambiamento però al contempo ci sono aree dell'italia ovviamente che si spopolano e infatti cito la storia abbastanza singolare di un di un paese in abruzzo che si spopola al punto che non esiste più e non è l'unico paese non è l'unico paese ci sono una serie di comuni che tra gli anni 50 agli anni 70 spariscono quindi questo ti dice anche di un cambiamento che è valle piola valle piola siamo appunto in abruzzo ne 77 gli ultimi residenti se ne sono andati e quel paese non esiste più in abruzzo e in molise in basilicata tanti tanti quindi è anche un cambiamento che non va allo stesso ritmo in tutta italia ovviamente no però sì trovo molto affascinanti quei dati su le abitudini quotidiane delle persone perché poi noi ragioniamo su grandi visioni no ideologie immaginari però quant'è cambiata la vita delle persone nel momento in cui avevano o non avevano l'automobile avevano o non avevano il bagno in casa avevano o non avevano i supermercati fino agli anni 60 i supermercati non esistevano il primo supermercato in italia apre in quel periodo lì e se voi vi vedete i le trasmissioni insomma le le i reportage della rai sull'apertura del primo supermercato in italia a milano vi sembra di vedere il lancio di un prodotto di un'astronave sembra che sia sia piombata un'astronave in città e che il paese la guardi con con ammirazione questa era l'impressione che faceva un supermercato agli italiani degli anni sessanta e una cosa che a me colpisce sempre è il salotto prima ricevi del del bagno no fino agli anni sessanta nelle case italiane non esisteva il salotto e voi vi chiedete ma perché cioè non è una roba che inventi da un momento all'altro non esisteva il salotto se non nelle case signorili perché il salotto è un grande spreco di spazio ci voleva lo spazio per dormire ci voleva la cucina ma il salotto è un lusso per così dire che nelle case italiane arriva negli anni sessanta e ci arriva poi perché c'è la televisione a quel punto diventa uno spazio che tutti vogliono ma le case fino agli anni sessanta il salotto non ce l'avevano in questo viaggio che hai fatto c'è un passaggio un periodo degli ultimi 70 anni che secondo te si parla meglio con l'oggi guarda la cosa affascinante che ognuno di questi momenti non so dal 2 giugno al boom economico agli anni settanta parla a oggi o per vicinanza o per lontananza in molti casi come dire ci appare significativo un periodo perché vediamo che è tanto diverso da quello che che viviamo oggi però se se dovessi dirti come dire mi piacerebbe pensare che diciamo l'italia di oggi un'italia così vecchia così stanca possa imparare qualcosa possa recuperare qualcosa dallo spirito dell'immediato dopo guerra cioè quei tre anni nei quali dopo una devastazione quale fortunatamente noi non abbiamo mai vissuto cioè la seconda guerra mondiale dopo quella devastazione in qualche modo le energie migliori del paese si trovano trovano dei compromessi con visioni diverse sull'italia che doveva essere ma scrivono insieme le regole che poi disciplinano ancora oggi la nostra vita pubblica cioè la costituzione mi piacerebbe che quel momento ci parlasse dell'italia di oggi quindi forse non ti do la risposta alla domanda quale periodo ti piacerebbe che parlasse all'italia di oggi passo tu fai un capitolo anche sugli anni 70 gli anni di piombo e sullo shock e che cosa perché li hai messi che cosa ci ci insegnano o se ci hai trovato delle assonanze con qualcosa intanto la nota da cui parto nel capitolo sugli anni di piombo è che perché da una banalità ma nessuno li chiamava anni di piombo durante gli anni di piombo ovviamente anzi non è neanche una definizione di un italiano non è neanche una definizione non si riferisce a quel fenomeno del momento della storia italiana no anni di piombo è una formula che arriva dopo e che nasce da un film tedesco che si chiamava tempo di piombo e che tra l'altro prendeva quel 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 verso da una poesia ottocentesca di Hölderlin quindi certamente l'immaginario come dire era un altro esattamente e se voi cercate negli archivi dei giornali prima chiedevi che cosa ho usato per scrivere il libro molto devo agli archivi dei giornali l'archivio della stampa ad esempio è una miniera non so se era stato fatto nei tuoi anni insomma non era per piageria però è notevole non c'è qui né Giannini né Molinari posso dire tutto quello che è stato fatto l'ho fatto durante la mia direzione un po' come il circo di Antonella Parigi non ero certo di questa cosa ma insomma l'archivio della stampa è accessibile a tutti se andate su archivio la stampa punto it tra l'altro è stato digitalizzato con il testo quindi uno ha le immagini delle pagine ma anche il testo degli articoli la cosa più divertente da fare ancora più divertente quasi di andare a cercare gli articoli perché tu vai inizia a vedere quando sei nato cosa c'era quel giorno in prima pagina e poi vai a vedere quando è nato tuo padre tua madre tuo marito tua moglie il fidanzato chi ti pare e vai indietro ma la cosa più bella è sfogliare le annate e guardare le pubblicità e guardate le pubblicità sono illuminanti illuminanti di del cambiamento del paese a un certo punto vedi che emerge la radio e le radio sono sempre più grandi a Natale devi conquistare una radio poi arriva la televisione poi arrivano le automobili ci sono anche per esempio negli anni 50 e 60 le pagine 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 di annunci di gente che non che si offre per lavorare ma di ricerca di lavoro la quantità di gente che dice cerco qualunque tipo di professione è una cosa da un segno di del tempo del dinamismo e devo dire che l'archivio della stampa è veramente una cosa meravigliosa no no è una miniera anche il corriere ha un archivio storico molto bello che si può consultare e anche interessante vedere i personaggi che scrivevano sui quotidiani adesso qui non per fare no però insomma sul corriere uno trova gli editoriali di Pasolini che poi sono diventati pezzi di storia no alcuni li racconto qua Italo Calvini insomma quanti altri potrei citare è curioso perché noi siamo abituati a considerare questi personaggi dei personaggi da antologie no da libro di letteratura a scuola però erano parte del dibattito quotidiano sui sui giornali all'epoca insomma chiudo tutta questa 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 parentesi per dire che gli archivi contengono contengono molte molte cose ci permettono effettivamente di vedere anche il linguaggio come cambia tu dice giustamente pubblicità ma colpisce molto anche vedere come le cose venivano raccontate in un certo momento e come verrebbero raccontate oggi ma insomma il per chiudere sugli anni di piombo se uno va a vedere dicevo negli archivi dei giornali vede che fino all'inizio anni 80 la citazione anni di piombo era solo legata alle pagine di cinema e pagine di spettacoli perché era il film in questione del film tedesco che aveva quel titolo insomma non erano chiamati così ma è un'etichetta che poi oggi per noi è quasi sinonimo di anni 70 tristemente no l'immagine che abbiamo degli anni 70 è molto molto schiacciata su sugli anni di piombo infatti interessante tutto quello che vi avevo letto prima perché tu ricordi come invece siano stati anche il decennio dei diritti e non solo il decennio del sangue e il piombo quindi questo porta anche a dire che quel decennio è stato così denso no da meritarsi due capitoli perché era difficile raccontarlo in un capitolo solo devo dirti se vuoi la cosa la singola cosa che ti citerei come chiave di lettura su quel decennio così tremendo così cupo in relazione ovviamente alle stragi e al terrorismo è che quel conflitto era la la degenerazione malata della grande partecipazione di cui parlavamo prima è come se fossero i due insomma le due facce della medaglia no l'italia della grande partecipazione produce anche dobbiamo sempre ricordarcelo il grande conflitto e la folle violenza di quel decennio grazie a tutti Grazie a tutti.